che conferisce alla Sirsefti Conad Perugia il titolo di campione d'inverno. La squadra del presidente Sirci, a caccia del riscatto dopo la battuta d'arresto casalinga contro Modena, trova la vittoria con un convincente 3-0 in trasferta al pala De Andrè di Ravenna contro la formazione di coach Fabio Soli. E il concomitante scivolone di Civitanova, sul campo della penultima in classifica, sconfitta al tie-break dalla BCC Castellana Grotte, fa il resto. Sorpasso della Sir, che chiude il girone di andata della regular season al primo posto a quota 33 punti, seguita dalla Lube a 32 e staccando di tre lunghezze Modena, battuta 3-1 dalla Chioene Padova. La Sir, dopo un primo set più equilibrato, spinge sull'acceleratore e cresce al servizio. Saranno otto gli ace al termine del match. Cresce in attacco con il 67% di efficacia nel secondo e terzo parziale. Su tutti, a spiccare la prestazione del martello americano Russell, che chiude l'incontro con 15 punti e 3 ace. Penso che questo MVP è anche della squadra, perché abbiamo giocato una bella partita, penso che abbiamo fatto molto meglio la difesa delle partite scorse e così siamo felici. Forse abbiamo un po' faticato il primo set, quando avevamo non buoni numeri ancora in posto 4, poi abbiamo preso un ritmo decisamente migliore rispetto al primo set, siamo entrati in ritmo, chiaramente dopo è aumentata anche la difficoltà e l'efficacia della nostra battuta e obiettivamente si è vista la grande differenza che c'è fra queste due squadre e soprattutto per l'ennesima volta abbiamo visto un dececo straordinario che ha saputo gestire la perfezione.